sono fiorellini fiorelline oggi sto in macchina ve lo dico dopo la sigla il motivo sono ritornata sto dentro la macchina perché oggi alle 7 sono le 6 20 vabbè alle 7 sulla mia via ci deve tagliare la vegetazione lo so tagliano l'erba e piante le piante quelle che non ci può camminare sul scalino non so allora io prima vado a portare questa macchina ve la porto sempre e poi vado a fare qualche giro sul parco e poi vado a casa perché dobbiamo levare la macchina non ha levato quasi nessuno vabbè ma perché le 7 capisco vabbè io la levo e fino a quando non è finito il lavoro c'è scritto vabbè io la levo adesso e vabbè comunque dopo puntare a città e poi devo andare dal meccanico a prendere l'appuntamento e finire a quella perdita dell'olio che devo aggiustare ancora e vabbè comunque adesso io mi metto la macchina qua comunque quando è stata aggiustata la macchina non è che sembra che fa più segno forse perché era perdita dell'olio che non andava tanto bene la macchina e forse era quello il problema non so se si è scaldato il motore fa caldo se vedo 20 gradi siamo alle 6 e 22 mamma mia aveva io faccio le 6 20 sul orologio però anzi volevo dire che ho fatto l'ordine la scei sto aspettando che arriva tanto arriva faremo un altro video l'ho fatto ieri perciò oggi è il 2 oggi è il 2 agosto e speriamo che non fa ritardo perché c'è per agosto speriamo ok ma andiamo a fare una camminatina fammi dire sul cosa se no riesco a uscire inflante perché io lo basso fatto già zainetto vedete vediamo siamo su un attimo a soldi che io c'ho un vizio da vedere se ho spende fanali perché quando è appena presa parante mi sono scordata a spingere il i fanali e perciò quindi ho scordato di canali mi si è spenta macchina mi si è scaricata la batteria per la presa patente allora c'ho paura che lascia fare accessi vabbè io non l'ho accesi però ok questi occhiali che sto portando c'ho un paio d'occhiali quando ho fatto shay voglio comprarmi lì l'altro però c'ho un paio d'occhiali c'ho questi qua c'ho quelli marroni che li ho trovati questi non li ho comprati su shay questi sono vecchi poi c'ho quelli marroni che ho ho preso su shay poi c'ho quei che li ho comprati ultimamente con brillantini e vabbè ecco qua ce l'ho soltanto quello lì che mi ha comprati su shay mi sembra che si sono cieca l'occhiali che sono uguali l'occhiali mi portava la mamma che mamma per la diabete era diventata cieca e allora sto stesso colore e allora mi dà sta cosa come se fosse ok la cieca si passa pure qua per il parco eh però vado giù dopo passa sempre perché tanto io faccio fino alle 7-7.20 così mi sono lavata ho cambiato l'identificio no spazzolino non so se l'ho messo in video perché ieri ho registrato come una pazza perché il primo io registro come una pazza proprio bisogna comprare una memory card per sicurezza perché credo che c'ho tanto tempo che la faccio insomma lo non so quale avrete visto lo metto un po' più forte perché non li metto a fila mi metto un giorno quello poi ci metto quell'altro video che c'ho e allora non lo so vabbè comunque c'è due io lì sono andata a comprare la sua ora che fa la mia casa sto comprando un edificio e quel coso che dopo ci fa lo sciacquo dopo lavato i denti perché siccome che io prendo quello spruzzo per respirazione perché pare i tre mesi so che faccio quel trattamento e mi fanno via maggio e gibe allora ho cambiato l'edificio ho cambiato lo spazzolino perché dopo tre mesi si deve cambiare ho cambiato e poi dopo faccio lo sciacquo ora oggi e già l'ho fatto vabbè comunque perché lui mi aveva detto fammi col bicarbonato però mi sentivo come se mi si stavano deboli i denti con bicarbonato facendo due volte al giorno con bicarbonato e in casotto allora io faccio due volte al giorno due volte al giorno per questo questo spruzzo che levavano dai denti dai gengivi dai denti perché viene come una polverina che questa polverina è medicina poche parole che è tutta stritolata e poi tante volte mi davo pure di più perciò mi sono comprata due dentifici due perché così per levare questa cosa come se mi fiamma i gengivi mamma mia come se mi fiamma troppo il gengivi o quel coso e vabbè comunque niente io mi avevo un sacco di denti mi padre lavava di più faccia colazione la mattina si lavava i denti a pranzo si lavava i denti a cena si lavava i denti sempre si lavava i denti e vabbè comunque tante volte pure io a pranzo a cena si perché dopo mi faccio spruzzo e vabbè comunque adesso sto camminando sto andando giù al parco tanto da dopo ho parcheggiato sto bene giù a differenza da casa se dove ho andato nel parco da quella entrata lì ci sono tre entrate per entrare da questo parco dipende di dove stai e vabbè comunque stavo dicendo che ho tre paio di occhiali e ho ordinato gli occhiali perché c'ho già tre paio di occhiali e allora da sole che ci faccio con un altro paio ulteriore e vabbè quello lì sono marroni sono chiarissimi e non c'ho una specie di questi si ve lo so più stretti più lunghetti e non c'ho normali senza brillantini a me gli occhiali mi piacciono con i brillantini vabbè comunque sto facendo a discesa e c'è il fiatone non è normale e vabbè comunque dopo devo andare a civita e vado a prendere la frutta dalla frutta che mi piace vedi casa mia è che là giù e parco questa è la via che vado a camminare e vado da fruttarolo e poi quanto guerrino deve andare a comprare l'acqua a todis certo non facciamo il video perché giusto per la frutta forse però un video come vedo e poi mi voglio fermare qua a fabbrica che c'è un meccanico che mi ha giustato a luglio l'olio che non cacciava tanto e mi deve cambiare ancora il filtro dove sta il motore mi sa è quello che perde un po' d'olio pure lì ha detto e poi vabbè va anche a casa mi dice perché 10 prima i 10 lui va in ferie cioè prima va in ferie gli faccio mettere questo filtro non so costerà 70 euro penso perché era 100 in tutto io ho speso 40 euro già non so vabbè comunque adesso vi lascio e ci vediamo dopo ecco sono andato al parco faccio un po di giri di parco quando esco ci rivediamo ciao a dopo ecco ecco state che rietta il parco fa caldissimo che sta sotto il sole sembra uscita un attimo lì che ci stava l'ombra lì non so se si vede ma che bella rietta ma mi viene da tutto muovo da casa mi faccio una bella doccia e mi faccio un caffè per colazione però mi vedo e e e e vabbè comunque mamma questo è piafiato perché camminavo a serta adesso adesso è finito questo video perché l'abbiamo finito perché poi mi ha fatto già e dopo andremo andrò guerrino andremo io guerrino per raghere ci aiuta che andiamo a prendere la frutta andiamo a todis andiamo a fruttarolo quello lì mio preferito qua a fabbrica pure c'è stato uno preferito c'è stato uno nuovo dove fanno verso il mercato lì quello lì è buona la frutta però siccome andiamo oh colpo un infarto oh aspettate un attimo ho fatto per un colpo col cane oddio ai miei quando metti i colpi aggianti rimangono i colpi ai cani ma io no fanno dovere loro però all'improvviso mi ha fatto per un colpo vabbè comunque continuiamo questo video che dopo vado pure dal meccanico a vedere quanto mi fa mi mette quel coso perché mi goccia l'olio e vabbè ci vediamo un altro video grazie le persone che hanno visto dall'inizio alla fine che mi commentano sotto grazie a tutti che mi seguite da anni e io adesso vi posso lasciare perché è finito e ciao buona cena e buonanotte perché voi la vedete alle 18 io se l'ho registrato dalle 6 alle 7 il video però voi lo vedete alle 18 perché i miei video escono a quell'ora ciao un bel bacio alla prossima grazie 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 grazie